Sì, per certi versi decisivo perché era un Spartiacqua questa partita col Catanzaro perché loro con un'eventuale vittoria potevano rientrare nel discorso dell'ultimo posto. Siamo stati bravi, abbiamo sofferto inizialmente però poi abbiamo avuto il controllo del gioco e in alcuni frangenti anche il dominio del gioco legittimando questa vittoria. La bacchetta magica purtroppo non è che si può avere subito oppure purtroppo quando la situazione si mette in alcune condizioni e la squadra cerca di reagire e poi prendiamo quel gollo là magari un po' la testa e i ragazzi ce l'hanno un po' altrove quindi non era facile gestire questa situazione però ce la stiamo mettendo tutti insieme al mister Aloi perché le cose sono un pochino delicate quindi si spera che la prossima settimana si possa decidere qualcosa di buono e questa è la realtà di tutti perché ai ragazzi non gli si può rimproverare niente perché hanno fatto un buon primo tempo i primi 25 minuti, i primi del gol stavamo giocando discretamente se cercate di creare qualcosa però purtroppo la testa alcune volte non ci aiuta è un po' altruppo la testa alcune volte non ci aiuta Grazie a tutti